Radio 4G On Demand, Radio Novelli, negozio di Roma. Sono le ore 18 del giorno sabato 13 febbraio 2016. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro benvenuto e il nostro buon pomeriggio. Nel giorno del World Radio Day accendiamo la prima radio 4G mai prodotta al mondo per riprodurre il contenuto inaugurale da YouTube con la musica alla radio della cantante italiana Laura Pausini. Signori e signore, buon ascolto e buona visione. Radio Novelli 4G On Demand, che lo spettacolo abbia inizio. Radio 5G On Demand, 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 Radio 5G On Demand Ma vado per le strade tra la gente Questa è una radio che è per te Questa è una radio Questa è una radio che è per te Questa è una radio che è per te